Nata nel gennaio del 2000, la sezione del club alpino italiano di Cervignano del Friuli Giusto Gervasutti conta ben 435 soci di tutta l'età. Con lo scopo di divulgare l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne e la difesa del loro ambiente naturale, la sezione offre ai soci molteplici attività che vanno dalle attività culturali all'alpinismo, all'escursionismo ed escursionismo seniores fino ad arrivare anche all'alpinismo giovanile. Dal nostro gruppo culturale vengono proposte diverse iniziative come la presentazione di libri e la proiezione di film e documentari, talvolta anche con la presenza di ospiti, noti e conoscitori dell'ambiente montano. L'attività di alpinismo seguita dal gruppo quota 2000 è l'ideale per chi ama praticare uscite in ambiente un po' più impegnative come la rampicata su rocce e lo scelpinismo. Per chi invece preferisce le escursioni ce n'è per tutti i gusti, dalle più semplici alle più impegnative. Accompagnati sempre in sicurezza dai nostri accompagnatori titolati qualificati, in sezione sono presenti anche il gruppo di escursionismo seniores che svolge l'attività durante la settimana e il gruppo di alpinismo giovanile per l'attività dei più piccoli. In occasioni particolari collaboriamo anche con iniziative comunali, presenziamo e con la nostra struttura di rampicata artificiale e con progetti scolastici in collaborazione con gli insegnanti. Presso la nostra sede, aperta ogni giovedì sera, potrete avere tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni e per le nostre iniziative. Vi aspettiamo!